Ciao, questa è la seconda parte di quel video che va fatta con mio marito sulle domande che ho trovato online La prima parte è già uscita, quindi puoi vederla sul canale e questa è la seconda Questo è il link Dove le domande si faranno bizzarre Questa è la campanella E cominciamo Se l'altro morisse, continueresti con i piani di girare il mondo? Ma perché dobbiamo morire sempre? Dopo tanto tempo Si pensa solo in coppia, no? Quindi diventa effettivamente un piano studiato per due Quello di... Cioè potrei girare il mondo ma per convenienza, no? Nel senso magari, visto che in due c'è che la vita costrebbe molto di meno Riuscire a vivere con le spostamenti più facilmente e andare a vivere in qualche paese per... Maltire il lutto Maltire il lutto E potrei andare in Asia, buh Beh, se tu non ci fossi più penso E se non ci fosse più il gatto Che non potrei portare dove vorrei andare Che è l'Asia Penso di andare subito in Asia Però mi farebbe una super paura Uno per il primo volo così lungo da sola E poi io da sola ragazzi non ho fatto mai granché Perché sono con lui da vent'anni, no? Qui saprebbe proprio... Non so che pianto, mi è già da piange Cambiati tutti i progetti Uno dovrebbe pensare che cosa si vuol fare Invece di portare avanti Boh, forse cercare di fare qualcosa di buono per gli altiparenti rimasti Una specie di restituzione E che famone è buono? Io, in Asia, mi sputtano tutti i soldi, veramente Io non so, sputtano magari uno mette da parte qualcosa No, sai, gli fai comprare casa Minta una mano Dove serve, insomma Questo mi fa capire che se ci sono io Tu non puoi mettere da parte questi soldi Di solito no È precisamente una relazione lineare Ah, sia tutte e due Quindi anche da morti ci vediamo lì Eh, no, non per forza Lo so che vuoi andare in Albania Chi ha più senso dell'orientamento? Totalmente io Ma ogni tanto la vedo che non ha orientamento Neanche con un map davanti Con la freccina Con il collo direzionale, no? Ma che cazzo? Io so che siamo quello che ci diciamo da piccoli, no? E forse mi immedesimavo tanto il yoga di Ranma E allora penso di non sapermi orientare Nella vita vera succede Però di nuovo mi succede soprattutto quando sto con te Perché dico che smaronata Cercare sulla mappa Fai tu, dice dove dobbiamo andare Però non mi sembra di avere un grosso senso di orientamento Effettivamente Ma avrà aiutato il mio passato da Vigio Urbano Sì, esatto Ma a me venivano a chiedere le indicazioni Quindi se non lo sapevi fare O lo impari o cambi i mestieri Insomma Tra l'altro una volta ero con lui Ho scoperto il mio marito Parlava spagnolo Nel senso che sono passata Alla fine tu sei schierda Alla direzione Che sono andata a trovarla in servizio E tipo Neanche ci eravamo ancora salutati Ho sentito che dava indicazioni spagnoli Ho detto Sei lo spagnolo? E lui solo per lavoro Ma quello è il Vigilese Che è la lingua di Babilonia Che si dice frammenti di parole giuste Che ti servono Per dare indicazioni in diverse lingue E poi basta A droite A gauche Ah pure il francese Parblet Parblet all'altro È una citazione che in pochi saprete Però vabbè Quei pochi stima Messi parblet Hai un rimpianto con me Con l'altro insomma Un rimpianto di che genere? Che ne so Mica ho scritto io Beh forse saremmo due parti prima Ad aver coraggio Tipo a 19 anni Aver costruito prima La vita in Italia E poi essere andati dopo È stata una bella sola Insomma Ebbe stata bella Avercce le idee chiare Più da giovani Io invece più terra terra Tipo quando eravamo piccolini Col fatto che ci abbiamo Quasi tre anni di differenza Che poi ne avevamo quasi due Due anni e otto mesi Due anni e spici Cioè tipo In alcune situazioni Sono stata inutilmente spigolosa Con i suoi amici Nel senso dicevo Sono troppo piccoli Potevo essere meno snob Meno strobe Meno strobe Però oggi ero recuperata Adesso sono un pezzo di pane E non lo facevo apposta Era tipo tesa Che ne so Anche perché Mi andavo da ragazzo E mi aveva presentato Un sacco di amici Tanti E all'improvviso Ce l'avevamo lasciati per lui E quindi Era difficile pure Rientrare in un nuovo Capito Tutti Era una nuova routine Sì Tipo Sì Secondo me sì Un po' Sono sempre difficili Gli inserimenti Serve tempo E poi senti Se non avessi sposato me Avresti sposato qualcun altro Cioè Cioè C'era in mente Ricollegandosi al video di prima Non quello prima Quello prima Monogami seriali La gente è fatta O per cercarsene Reazione lunga O per cercarsene Una cosa E poi dice Eh Te ne trovi nate Probabilmente sì Se è quello che cerchi Nella vita Perché è proprio Un fattore personale Beh io devo dire che Sposato Ecco Vosti sposato È la parola chiave Perché io non è che Proprio Sono Tutti si devono sposare Insomma Ognuno fa come gli pare Probabilmente Avrei ricercato Una reazione lunga Probabilmente sì Non era così Era in mente Con chi ti avessi sposato Ah sì Con Carla e Johansson Se stai vedendo questo video Come l'exceptionalist Io stavo con un'altra persona Prima di te Ma non ci saremmo mai sposati C'era destinata a finire Come cosa E infatti c'è una vita Meravigliosa Un bimbo Una moglie Strepitosa Quindi insomma No E devo dire che Io mi interesso Molto poco Ai uomini Da dopo lui Nel senso Non c'è nessuno Che mi ha mai fatto Venire in mente Sta Però Sarebbe stato bello Sposarmi questo No Proprio no Te ne basso È un discorso anche Che uno C'ha una certa capacità mentale Se si libera lo spazio Diventa più facile Per qualcuno altro Che io lo schiaccio la cosa Non so Siamo Siamo divagando Siamo gente di mondo Mi avete capito E infatti Sei felice di quello Che l'altro ti ha dato? Chi è che potrebbe rispondere Di nostra domanda? Se si odiano Ovviamente Dicele no Non che domanda Scrive Ti odio E se lo dico su questo video Su YouTube Ti odio Te l'ho sempre odiata Te l'ho sempre odiata Aspetta Come è la domanda? Sei felice di quello Che hai ottenuto? Che ti ha dato? Ma sì Anche che se no Se no non regge Nell'azione Non so Ma hai dato 100% Pure di più Quindi ma che scherzi A me basta il tuo 80% E anche una macchina verde Sono riuscita Brutta Ante è brutta Che rimanga negli annali È bellissima Vi giuro 20.000 miglia di più Se questo discorso non ha senso C'è un video che abbiamo girato Che trovi qui Senti Credi nell'anima gemella? No Nel senso Io credo che in questo mondo Ci sono delle affinità Con più persone Con più e meno E normalmente uno si Si accompagna con persone Che hai trovato nel tuo contesto Forse se uno avesse una forte vocazione Come ad esempio Voglio fare lo chef E trovi un'altra chef Che lo vuole quanto te Allora animi gemelle per sempre Però normalmente Quello che Credo che succede più spesso È che uno Vuole fare una relazione E nel tuo contesto Trovi delle persone Che ti sono più affini Fra queste Ci si trova abbastanza Ci si mette in sé In un lungo periodo Io credo in quella frase L'amore eterno finché dura Che però lo dico Pure un po' per parare al me il culo Bisogna essere onesti Perché quando tu ti esposi Un sacco di gente fa Come è un matrimonio su tre Due matrimoni su quattro Non si sa esatto E quindi Io dico sempre Sì siamo felici Però non metto le mani avanti Che ne so E invece metto le mani avanti Non ci si deve Sposare per dovere Insomma Bisogna sposarsi Se uno trova una persona Con cui pensi di poter Stare nel lungo periodo O comunque Che vuoi bene abbastanza Per farlo Perché secondo me C'è più il rischio Che uno si sposi Perché si vuole sposare Indipendentemente da con chi Rispetto invece A che magari una persona Si trova con uno Con cui deve stare Un lungo periodo Questa domanda Non c'era Ma tipo Pensi che il fatto Che ci siamo conosciuti Da ragazzini Lui C'era lui Era minorenne Quando ci siamo Diventati amici In galera In galera Io non ti ho toccato In galera Solamente no Ho visto tutto Ho visto tutto Mai successo raga Mai Ho visto tutto Mai Pensi che abbia Si dice Un po' Aiutato a durare di più Perché effettivamente No Questa è la domanda No È una domanda Che ti sto aggiungendo No Anzi Forse è vero Il contrario Normalmente Una persona Stabilizza la propria La personalità Torna ai 30 anni Quindi normalmente Uno si dovrebbe trovare Sennò in quella fascia Di età Perché quando sei giovane Forse dovresti sperimentare Un pochetto Perché noi facciamo Un po' eccezione Giovani d'oggi Andate Vascolate Vedete un po' Che mi interessa Secondo me Forse è più semplice Se ti trovi De ragazzino Perché C'è tutto quel tempo Raga Cioè noi Invece da andare all'università Ci vedevamo Cose eccetera Non so se capite Non ho avuto un impatto Su laurearsi più tardi Di un anno Esatto Ti ricordi Quando c'era Gli scrivo i messaggi Oggi c'è il Carli Vieni da me per favore Perché non potrei Supportare il Carli Buonanime Esatto Che stava a dire Che mi sono ascoltata Che ho detto Qualcosa se non concentrassi Sull'università Ragazzi studiate Studiate L'università è importante Anche se non c'è l'obbligo Di frequenza Frequentate Non fate come Questa cosa diresti Anche stessa di passata La domanda Quindi Studia Ok dicevo Ragazzi Solo dopo l'università Dicevo Fammi finire Che secondo me È più semplice Da ragazzi Ok Io vedo alcune mie amiche Che non gli manca niente Intelligenti Molto belle Con un buon lavoro Eccetera Che ho alcuni miei amici E vedo quanto è più difficile Poi trovarsi Dopo no Mi sembra Almeno poi non lo so raga Non l'ho mai provato Non lo so Ma è anche vero Questa è una cosa Un po' scortese Da dire Che le coppie Che si sono messe insieme Da già giovani In un certo senso Sono più storte Posso dire Perché cresci Accettando delle cose Che magari a 30 anni Non avresti accettato A 40 non avresti accettato Ma che a 20 Fai Nel bene o nel male No Tipo La gelosia Io non sono per niente gelosa Ma a 20 anni Ma sei come un'idea Qualche cosa sarà successa Qualche stupidaggine Che fai No Quindi Te la porti un po' dietro Come bagaio Credi in Dio Ok Ho appena tutti i follower Quali follower? I follower cattolici Ho cresciuto Come un cattolico Ho andato a scuola Dalle sore Ho soreggiato Ho imparato Tutti i conti Ma devo dire Che in crescita Ho iniziato a reputare Un Dio Poi antropomorfo Come lo rappresentiamo noi Però tu ti dici Magari L'iconografia Pure Quando mi disegno Questi trucchi Ah c'hai dita È vero Penso che sia la risposta comoda A un problema umano Insomma Nel senso Un uomo Vuole sapere Che c'è qualcuno Che bada a te Insomma Che Che magari riporta La giustizia Nell'aldilà Per quello che è andato storto Da questa parte Credo che sia un'idea pericolosa Perché se qualcun altro Se ne occupa Allora non è più Nostra responsabilità Insomma Secondo me Sta agli uomini Portare i valori Su questa vita Insomma E pertanto È nostra responsabilità Prenderci carico Di ciò che è la giustizia Di ciò che è la solidarietà Tutte queste cose qua Ed è un'idea molto pericolosa Invece rivolgersi a un'altra Perché a quel punto Noi ci siamo autorizzati A fare cose molto brutte Il nome di un terzo Che ha già stabilito Una serie di dogmi Che a quel punto Non rappresentano più Dei valori A cui uno si rappresenta Potrei essere agnostico Ma di sicuro Non credo In un dio Così come è formulato Anche perché poi È molto contesto dipendente No? Se uno nasce in Italia Sarai cattolico In Arabia Sarai musulmano Se non nasci in un altro paese Sarai Della religione locale Quindi non Secondo me L'abbiamo già risposta A questa domanda Perché mi ricordo Tutto questo discorso Quindi secondo me L'altra volta c'era Non lo so Rispostami a breve Non ci credo Sono sbattezzata E sono molto felice Di questo Quindi no C'è una tradizione Che ha portato l'altro Nella tua vita? Sì Il Natale Era in questo video O comunque l'altro? Era nell'altro Lui non lo festeggiava È figo però Tutti insieme Mangiano Ma è una cosa figa Vedi i nipoti Si gioca a bingo Insomma Ma che è bingo? Tombola Salta a cavallo Se c'è mio zio Se no Guarda che una figata Provare il Natale Io non ci credevo Ci si diverte E tu non hai portato Tradizione nella mia Se non è che Io e lui festeggiamo Il Natale Da soli Mese dopo Però che è una cosa È venuta un po' Perché siamo noi All'estero Però No Non direi se no Io ho portato la tradizione Ma poi me ne dimentico No Mi piacevo il frullatone Il sabato La domenica Mi facevi sempre La centrifuga È smesso Quando ci eravamo Prima sposati Mi portava sempre Il drink Cioè Siamo proprio I bicchiere Per ogni drink Diverso Smesso raga Mi sono ricordata Che non mi piaceva l'alcol Ma penso Infatti tipo Quando andiamo a casa Sotto giochiamo sempre A quel gioco Che odio Innovation Quindi quella è la tradizione Se vuoi Sì E senti Cosa sei grato Che l'altro Non abbia Cosa Un fissile puntato Contro di me Per farti fare questo video Cosa sei grato Che l'altro Non abbia Ti facciamo che l'altro Ha Cioè Non abbia Se posso Beh magari Grosse caratteristiche Negativi Una forte gelosia Vabbè Ma fammelo Che ha Perché sennò fa schifo Cioè C'è questa domanda Ma che vuol dire Cosa sei grato Che l'altro Ha Beh Sei generoso Buono Che cosa non sei grato Che l'altro Ti piace questa L'attitudine a A spargerle Se ci sono Sono già usciti La parsimonia Dove sei Sì La parsimonia Allora come Noi cosa mi hai detto L'altro giorno Io come sono Generosa Cara Generosa Come nel senso Di spendaccione Cara Nel senso Di spendaccione Spendaccione Nel senso Di spendaccione Come invece Una grossa bisaccia Con un buco Da una parte E dove cadono Le monite Dove cadono Ma è male Questo cliché Invece io Mi fa piacere Che tu non sia Scusatemi So che mi attenererò Molta antipatia Però tipo È una cosa mia Che mi piace così Ok E tu non sia tifoso Cioè tipo Oh la magica Quando mai Che non sta tipo La domenica Se c'è il campionato Non puoi parlare E poi Come tratti le donne Cioè Non potrei seguire Una persona diversa da lui Cioè Non fa Non fischia Non parla Non guala Sì però Non vuol di niente E senti Come dimostra All'altro La rabbia Secondo me Tu Cioè lui C'è una cosa Con l'ansia Capito come Cioè una piccola cosa Lo monta tutto quanto E poi È tutto un negativo Da lì a due ore Non riesce Cioè dei momenti In cui dico Ok da Lascia andare a sta cosa Poi magari la rivediamo Che non riguarda Magari in due Certe volte Ma riguarda altre cose È impossibile Cioè Un impasse In cui è tutto Montato Quella è proprio Anza Esatto Ha un altro termine Insomma Vabbè però è quando diventi Che te ruote un po' Capito Invece io Beh normalmente C'è un certo silenzio Ma c'è stato un sacco A lavorare Guarda Lascia Quando ero ragazzina Ma 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 Come ci immagini Tra cinque anni Tra cinque anni Cinque anni Sottanti Auspicabilmente Nomadi digitali Vivi Posso auspicare In realtà sarebbe un grande Un successo Ah nomadi digitali Oh mamma Che ansia sta cosa Beh spero Beh spero di sì O come stiamo adesso Ma tipo senior Sì esatto Sì Quindi un po' più affermati I lavorativi Oh mazzo Solo lavorativamente Che altro cambia Nella nostra vita Solo quello Perché tutto adesso Cioè non vogliamo Adesso siamo in quella fase Della vita centrale Dove se lavora Siamo che l'unica cosa Ci piacerebbe L'unica cosa Che ci piacerebbe Cambiare è Stare più tempo Fuori dal Regno Unito Però non ci vedo Cioè tu hai detto Nomadi digitare Non so se riusciremo mai A dire Ce ne andiamo Proprio al Regno Unito Non lo so Sicuramente Non lo so Spesso quello che diciamo È che vorremmo vivere Rimanere residenti Nel Regno Unito Quindi sei mesi più Però per il resto del tempo Viaggiare Viaggiare un po' più lungo E penso che a questo punto Non so quando pubblicherò Questo video Ma l'annuncio Su quest'estate Dovrei già non averlo fatto Se così non fosse Albania No zitto Se così non fosse Chiaratevi No perché poi Non siamo sicuri di quello Quindi non lo dire Traghetto per bari Non abbiamo ancora Confermato La buia Quale buia Basti ciotti leccesi E chi è più generoso Tra di noi In che senso però Mi viene anche cosa Se si intendi Con chi spende di più Per gli altri Sì perché non spendo Tanto per me Ok Sempre per gli altri Facci caso Vai Se chi è chi Concede più nella coppia Io E poi il fondo è comune Tu sei molto generoso Io sono molto generoso Si va detto Chi è più intelligente La domanda del ca L'intelligenza è un costrutto Multidimensionale Insomma Quindi c'è chi è più capace In alcune cose E chi è più o meno capace In altre Quindi io rifiuto Il concetto di Intelligenza in maniera lineare In cui tu stai A un certo punto E uno sta Stà a meno Detto ciò Allora l'intelligenza Quella becera Quella che Quella brutale Che numeri Che lo sbatti sul tavolo Che lo fai vedere Sicuramente Io nella mia fase Della vita più adulta Ho scoperto di avere Ancora una mentalità scientifica Che prima non conoscevo Perché in Italia Non mi avevano mai Coltivato Mettiamola così Però Lui riesce a fare Dei lavori assolutamente Noiosi Ripetitivi Con attenzione Io con la roba lì Mi ammazzo Quindi quel tipo di intelligenza Se ci sta un masso qua Che è il problema Bisogna martellarlo Per ore Fino a che saltano Fuori tutti noi Io non ero a giro raga Io lo so Un po' fa Oh ti è beccate sto masso Io mi travo con due massi E tu per la mia città Che c'è che lavoriamo insieme Quindi il mio problema Ha cresciuto E stai là Con sta piccozza Con le deadline Io che piango E urlo E poi la domanda Come piangi Eccolo Che si ricollega tutto Io con il masso Oddio Oddio Non ce la farò mai E poi arriva Alla fine giornata Morto per terra Che tipo Hai fatto il 50% Ma mi ha fatto il tuo bellissimo occhio Non c'è Mi ha triggerato Quindi l'intelligenza più Non so più come si Esecutiva Si dice Più becero No tipo Tick the box Come una roba lì Lui L'intelligenza creativa E dinamica E sociale Sociale io sto proprio Tipo La stessa di un bruco Che sta per diventare farfalla Però capito Quella farfalla Che nasce senza bocca Perché vive solo una settimana Io ho la stessa E avevo promesso delle domande S.S.S.O Perché Babbo Natale L'abbiamo detto Metti il bollino qua Ma al 18 E qua la campanella E qua il link Per la canzone Una Una che ho cancellato E che mi vergognava Raga E a che ora ti piace più Fare sesso E mi vergogno Ti ho detto Rossa Non c'ho più vent'anni Mi vergogno Beh normalmente Lontano dalle ore lavorative Preferibilmente in casa Quindi diciamo Faccia serale Normalmente Oh per me però Dai Ma pensa Risulta comodo Tardo afternoon Però questa l'avevo cancellata Non so perché No perché l'hai messa No ti sto dicendo Quella che volevo mettere Allora Che tagliamo Hai mai pensato Di tradirmi Cioè viceversa Che domande sono Non capite Mi ha pensato Di tradirmi No perché è una brutta cosa Sì Mi è fantasticato Su spargere il coso Ma sì Spargere il coso Spargere le sementi No Forza venite gente Con seriamente no Cioè tipo appunto Non mi è basta Quanto è Seriamente no Perché non mi piace nessuno Proprio è proprio difficile Tipo due persone Che ho detto a Bonnie Era uno Il dentista Che lui mi ha detto Sì è vero Ma è pure Il dentista Quello che ci ha trapanato Ma è giovane È troppo giovane Sì Però il giovane ha fermato Cresci bene Che ripasso E quel personal trainer La prima volta che l'ho visto Perché poi ho detto No proprio zero Che ti ho detto Oh amore Perché secondo me È troppo focalizzato sul lavoro Ma ti giuro Cioè che palle Faccio vedere più cibito Faccio vedere più cibito Che ho fatto C'è ride che i facciamori Con questo forse Lui fa Eppure io Quasi quasi È la prima volta che l'abbiamo visto Perché poi non è Ma sì Perché uno proprio Poi anche stima La stima è importante Quindi ho mai persogliato da dirti Di recente Assolutamente no Forse quando Avevo vent'anni Un paio di ragazzi Che c'era un po' di flirt Sì ma Sinceramente no Monogami Monogami seriali E apriresti mai la coppia? Questa domanda La fa ingazzare La donna mia Io speravo Dice se apriresti mai Tipo un Più schietto Un business Un business Sì perché no Apriresti la coppia Aprire la coppia No Ma perché sono formato Dal fuoco di mille battaglie Nel senso perché Per me uno deve partire Con quest'idea Nel senso Più Poliamorosa Che c'è tante relazioni Ma uno non fa lo stesso Gli stessi assaggiamenti Almeno per come sono fatto io Non è che Ti sposi Prendi mutuo Pianifichi una vita insieme Insomma c'è una cosa più geghegeo Mordi fuggi Detto questo è il mio limite Nel senso C'è chi lo può fare Buon per loro E non ci riesco Ego sintonia Scusate Mi stava finendo la batteria L'ho dovuta riavviare Allora io voglio dire una cosa Molto importante Che il matrimonio Non è per tutti Ma il matrimonio Nella mia esperienza È stata una cosa bella Perché siamo due team players E abbiamo quasi sempre La stessa direzione Ok Però il matrimonio È un costrutto sociale Nel senso Serviva a un certo punto Per In caso di figli Soprattutto Che Chi li cresce stai figli Con che campano Eccetera eccetera Quindi secondo me Si andrà più Verso un'apertura di poliamore In futuro Tu che dici? Beh secondo me sì Sì Ma anche più di fluidità Fluidità assolutamente Sì Per rispondere alla domanda Prevesti malacoppia Proprio perché io sono sicura Che il poliamore Abbia più senso Ovviamente ci ho pensato Insomma Da quando si inizia a parlare Di queste cose Perché Ragazzi ma prima Ma chi le sapeva Ste robe Però Secondo me È un discorso che puoi fare all'inizio Farlo dopo vent'anni È un nostro limite È un nostro limite Non sono gelosa Ma Non ce la so In linea teorica Se potrebbe In linea pratica Non si può Avrei paura di perdere Avrei paura di perdere Miro chi lo fa Chi ha questa Intelligenza anche di dire Che ha più senso Della monogamia Sicuramente Però purtroppo Noi siamo Purtroppo per fortuna Siamo monogami seriali Non ce ne potevamo fare niente Ormai è andata così Questo è il mio termine Sarò solo Ladra Ladra E poi dice Ti fidi di me? Eh dipende per cosa Ah stronzo Nel senso Se parliamo di gestire l'economia No Non conta i numeri Noi faccio Guarda ma non ci stanno i soldi Faccio ma come No se metti Due Più due Fa diciotto Ma no Ti dico io Stai cadendo un cliché Della moglie No vabbè Sono sicuro che altre donne Sono più che capace Questa Ti fidi Riproviamo Ti fidi di me amore Dipende per cosa Nel senso Ad esempio Io non Non mi curo molto Della mia salute No E cose del genere So che comunque Tu You got me covered Una persona mi dice Devi fare ste cose No Valla al medico No E quindi diciamo So che sei una persona Supportiva Che mi vuole bene Insomma no Quindi mi fido Che vuoi fare le cose Per Io bene So che come persona Come tutti Ci sono cose che ti riescono meglio Cosa che ti riescono peggio Quindi se stai facendo Una delle cose Che ti esce peggio Da ciò Dava un altro occhio Che non ti sa mai Mi fido di te 100% Però visto che hai fatto Lo stronzo Non mi fido di te Per le cose pratiche Tipo Le bollette Le robe Perché tanto so Che ti scordi Ma non le seguo Eh vabbè Facile così Grazie Voglio dire L'abbiamo pagata L'ho pagata io Tutto Quindi ovviamente Tutto va come dovrebbe andare E se ti credi Nel paradiso Questa sei quella Che è la domanda Di qui sopra Ah che ne sai Tu sei agnostico Fa come ti pare Beh è una bella domanda Ad esempio Ad esempio no Un tema che si Si discute molto Adesso è tipo Ma non è che siamo Dentro una realtà Simulata Tutto il tempo Questo è una specie di Cioè se noi fossimo Veramente eterni no Sì E queste fossero Soltanto delle Delle frazioni Di vite A cui possiamo accedere Non è una cazzata Chiunque l'ha detto Non ha senso Vabbè insomma E come fai a saperlo Ma non c'è Non c'è sto nel matrix Se no lascia perdere Sono molto pragmatica Su queste cose Quindi Il paradiso Tipo che tutti Stanno col mandolino Spero di no Che due maroni Però in quel senso Non esiste Secondo me neanche L'inferno E quella è la domanda dopo Mi domando Se la materia Abbia una coscienza Quindi avrei un residuo Di coscienza Dopo la morte Questa è la domanda La risposta è Probabilmente no Perché sono tutti Stimoli cerebrali Però insomma Non ci dà conforto Sperare di sì Però secondo me Credere nel paradiso Appunto è quel discorso Del mandolino no E nel momento in cui Credi in quel tipo Di paradiso Credi in una roba Che svilisce la persona Che toglie tutto Il negativo Che ha vissuto quella persona Perché sta lì ed è Amore puro Eccetera E non lo so È come stare in un paradiso Dei lobotomizzati E io sono la prima Che dice vogliamoci bene Sempre Sto lavorando tanto Per avere soltanto Questo tipo di sensazione Attorno no Però il paradiso Che ci hanno raccontato A me non mi suona Proprio Non mi ha mai suonato Proprio A me suona Come sensazione In terra Nel senso Che se io faccio Le cose fatte bene Mi sento più in pace Con me stesso Nella vita che faccio Tutti i giorni E quello in un certo senso È il tuo paradiso È il mio paradiso Vabbè dormi tranquillo Non c'hai Non c'hai affari con nessuno Non ti becchi con Che c'ho Bella zizia Puoi dormire Sì è vero Vivi meglio Quella è la Secondo me La gran differenza Quando ero più piccola Pensavo tipo A tutte le persone Che amo sul lettone Perché secondo me Dormire con un'altra persona È una delle cose più Intime che ci sia Più dolce che ci sia Tutti che In qualche modo Siamo connessi Che siamo attaccati Quello sarebbe stato Il mio paradiso Ma non funziona Perché tizio Poi va d'accordo con Caio Quello e quell'altro Sono lasciati Non funziona raga Il paradiso Non funziona È consulante L'idea di vedere Le persone che si sono perse Diciamo come Da quel punto di vista Me lo auspico Da lì a credersi Se non lo posso vedere Come faccio a credersi Il salto decide La fede in cielo Non funziona Ma non si quaglia E quindi senti Credi nell'inferno Penso che sia la stessa risposta Poi l'inferno Se vuoi è anche Una fantasia punitiva Quindi ci debba stare Un giudice Che dice Tu v'è qui Tu v'è là E quindi Se non credi nel giudice Come fai a credere Io ho smesso di credere In questa roba qui Quando da piccolina Mi sono letta Il manuale di psicologia Di mia zia Che non studiava la psicologia Non so perché ce l'avesse E cultura Cultura probabilmente E io andavo all'elementare Alla media non lo so E io dicevo Ma se la psicologia Riconosce queste Queste aree Nella vita di una persona Che ti portano a fare A, B o C Come fa la gente A andare all'inferno Cioè Dio lo dovrebbe sapere Che dice Sì vabbè Però tu hai fatto questo Però c'è una situazione complicata Capito come? Dovrebbe essere aperto di mente Sei stato un po' cattivo Però Pure che hai ammazzato qualcuno Che non si fa raga Però effettivamente C'è un problema mentale Se c'è un disagio Nel popolo inferno Non tu ho meriti no? Che quindi Non funziona Comunque mia nonna da piccola Mi raccontava la storia Della vecchietta con la cipolla L'avete mai sentita? Madonna mia Tu la conosci? Mi l'hai già smaronata Ti giuro C'era una signora così cattiva Che era finita all'inferno Però non so che santo Gli fa Vabbè Tu una volta nella vita tua Hai dato la cipolla a un poraccio Quindi Per questa cipolla Aggrappati Che ti porta in paradiso Però tipo Gli si attaccano tutti addosso E questa signora Comincia a scalciare Perché la sua natura era quella Era una stronza Era sempre stata una stronza Alla fine ricasca all'inferno Perché donna Mi raccontavi queste cose Prima di dormire? Non lo so Però pure la signora Si meritava forse Un supporto In che modo Le altre persone Casualmente all'inferno Causano a questa signora Di non poter andare in paradiso Lo so Però me la riscalciava Dai un po' di me si ricorda Scusa se lo vedi Una volta che uno è finito all'inferno Che dobbiamo neppure sempre Se lo so Per definizione Se uno esce e entra Che è un casino Ma fino a c'è la limbo Ti ricordi? Magari ma devi fare un po' Limbo con lo tu 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 Esatto La terra Con questo limbo direi che abbiamo finito E quindi basta raga Abbiamo registrato i po' 50 minuti Siamo rotti Siamo la verità Vuoi dire qualcosa prima di concludere? Amore non è bello Se non è friccicarello? Siamo friccicarelli Senti come friccica Senti come friccica Grazie di essere stato con me Grazie di essere rimesso Sta parrucca che casca a pezzi La mascherina Che ti sta vogliono soffocare Esatto E con tutti quanti Ci vediamo mercoledì prossimo Nuovo video Dappertutto nell'internet Che devono fare? Qua la campanella Qua seguitemi Il link al video precedente E ciao Ciao Ciao